Buongiorno, siamo qui a Grugliasco, una delle città più importanti della prima cittura di Torino, i giovani, i giovani, una volta Grugliasco era una bella cittadina, lo è ancora oggi, più di ieri, ma i giovani di Grugliasco, che ce ne sono tanti, che futuro hanno, che sviluppo hanno? Un buon futuro, i giovani di Grugliasco, manca il lavoro, manca tutto, però se le cose li cambiassero in bene forse si troveranno. Ma ci dia un'idea, un suggerimento, un consiglio? Che consiglio gli posso dare io? Che i nostri governatori si mettano la testa a posto, danno un po' di lavoro e così risolvono il problema. Quindi la politica deve risolvere i problemi, punto e basta, deve trovare lavoro, creare ricchezza, benessere. Ma tutto va avanti tramite la politica, se la politica non funziona, non funziona mai niente. Grazie, buona giornata, arrivederci.